Un saluto amici, riprendiamo con il nostro ospedale di Dem Hospital, stiamo facendo il nostro terzo ospedale e ovviamente la situazione è più critica che altro, però avete ragione, non siamo proprio messi benissimo, perché siamo il primo anno e non sta funzionando ancora in maniera eccezionale, perché ci servono medici. Oh, nuovo disponibile, cardio, ecco quello che vogliamo, attrezzature, stiamo lavorando, abbiamo sbloccato cardiologia, ok, cardiologia, mi sta bene, ma dov'è la porta qua? Ecco, quindi mettiamo, ci sta, sta un po' di cardio, perfetto, vedete che prendiamo i ritmi e diventano gli sportivi incredibili, ma io sono qui per curare il mio cuore. Il paramento, eh già, cavolo, appena abbiamo aperto già il dottore in cardio, vabbè, vediamo se abbiamo dei ricercatori per un tutto, penso di no, ah ovviamente facciamo una cosa che faccio sempre io, di risparmiare sui costi, perché siamo ovviamente tirchi e spilorci, e ne va bene, provo una possibile cura, 43%, no, 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 fra le altre diagnosi, non rischiamo, non facciamo morire un giocatore, cioè se magari è sbagliata, se un cavolaccio è male, va bene, allora, andiamo avanti, dobbiamo, secondo me devo comprare, devo assumere, comprare, devo assumere un dottore, chi sei il te, questo qui cos'è un ricercatore, io non so se uno è un ricercatore, no, ce n'è uno solo, andiamo, assumiamo anche carretti, mi tipo carretti, leggendario carretti, si dedica al lavoro col sorriso sulle labbra, e lo mandiamo. A proposito, devo sistemare la sala pompa, io, spero che sia sistemata, ecco, devo sistemare, facciamo un po', ho usato tre volte, andiamo così, e mettiamolo a posto, andiamo questo, a sistemare la sala pompa, oh c'è un tipo invisibile, veramente, era vera sta cosa, dobbiamo andare avanti ancora con questi medici, ci sarà un dottore da comprare? Ok, questo qui, è fenomenale questo, è una leggenda totale, lo mandiamo a ricercare, su, ricerca, abbiamo visto di te, ci si scelte se non sbaglio da qualche parte la priorità delle ricerche? La richiesta infermiera in reparto Attenzione, sto cercando di ricerca, schermata ricerca, allora, vediamo un po' cosa fare, siamo 20, 20, 20, 20, ovviamente, è difficile, non è proprio facile decidere tutto, ma ad esempio, fare migliorie, abbasserei un po' la quota, e attrezzature per diagnosi, ovviamente, cerchiamo di essere più precisi, che possiamo Allora, 65%, vai, vai, prova, prova, invisibilità, dai, prova, prova, prova la cura Attenzione, malattia del sonno, chiandola del sonno imperativa nel palato, succede, eh, no, succede un cavolo, ma facciamo minta di sì, allora, intanto Prego recarsi in psichiatria Io avrei bisogno di prendere più roba, cardiologia ce l'abbiamo già, psichiatria ce l'abbiamo già, corsia ce l'abbiamo già, non ne voglio prendere un'altra Diciamo che, ci mettiamo magari una toilette anche qua, ci sta una toilette, ci sta qua, meglio Ok, facciamo una bella toilette, va, che bello, là sui monti con toilette, non erano più così, ma Ci mettiamo qua, oh, che c'è, succede? Oddio, è finito tutto E siamo i peggiori, eh beh, ovviamente, siamo modestamente i peggiori fra tutti, mi hanno fatto schifo il primo anno, ma va bene così Ok, mi sta bene, ricchezza, ultimi, salario, paghiamo più degli altri, perché siamo di pirda, ok Decessi 0, meno male Cura 19, visitatori 44, valore totale Eh, siamo buoni Vediamo un po' i premi Hai vinto un premio per i più impeccabili standard, più alta reputazione possibile, vabbè Hai vinto un premio crepa, no grazie, meno male Noi non siamo in Italia Ok, l'ospedale è stato terminato con un profeo per il venditore di bibite Oddio, mi hanno dato anche soldi Vabbè, ho venduto tante, ho venduto tante bibite, sai che, le robe importanti della vita Ah, sono accendo la toilette Forse è un errore farla qua, ma sinceramente Volete mettere quando, quando scappa, scappa Che succede? È morto qualcuno? Oh, è morto qualcuno Succede, succede Non è una bella cosa, eh Era bello avere una reputazione in tolsa, ma vabbè Andiamo avanti Modifica stanza No, basta personale, non voglio più assumere qualcuno Sto spendendo un macello Allora, distributore del valide Vediamone due Divanetti tre E qualche pianta da mettere in questo posto terribile Divanetto, 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 divanetto Allora, vediamo qua Uno, lo mettiamo, ma qui non ci sta, vero? No Qui? Non mi piace sto posto Ma qui non è che è molto utile, però, non sa mai Divanetto anche qua Distributore delle bevande Magari è un posto proprio più comodo, tipo qua Quello che è bello Proprio nasconde tutto Si butta le bevande Ok Pianta Allora, abbiamo detto, una bella pianta In qualche posto più utile Le piante poi vanno annaffiate Iniziamo qua Cardiologia Cardiologia E ovviamente Dovremo fare contenti anche i dottori Quindi facciamo anche qua Non sarà perfetto Tavolo operatorio Attenzione, abbiamo creato un nuovo macchinario Noi ovviamente lo facciamo Lo mettiamo in attività Infermiera richiesta in farmacia Attrezzatura Diagnosi Dov'è sto coso? Dov'è sto macchinario? Scusatemi Perché non lo vedo Ma ho detto una cosa e non lo vedo? Macchinario Non lo vedo Non c'è Clinica No, cardiologia basta Abbiamo già cardiologia Attenzione Laboratorio pericoloso Malattia efficace Ok, al 22% va bene Tavolo Eh, come hai detto 79% Vai, fidiamoci Fidiamoci Mi fido, mi fido Invisibilità Proviamoci Allora, tavolo operatorio E io dove lo metto il tavolo operatorio Senza una chirurgia Ha un suo osservato Stutturalmente niente male Si è premiato Ma contento Muoversi, muoversi Muoversi, muoversi Affettatrice Ok Abbiamo nuove cose ragazzi Affettatrice Per quella lingua lunga Clinica Ecco qua Sali per lingua Questo vi abbiamo trovato Quindi non era ancora tutto pronto Visto che bello Dov'è che arrivano i pazienti Stavamo riuscendo i nemici Cavolo, manco fossimo Su Call of Duty Dov'è arrivano i nemici? No, qui no Però, prezziatemi Un'emergenza Arrivano da qua E noi li gestiamo Mi piace l'idea È molto romantica l'idea Che possiamo salvarli la vita Da sto puntino Scusatemi E diciamo che appunto È una situazione un po' drammatica E sì Abbiamo sistemato anche questo Affettatrice Di vedere se la cardiologia Mandiamoci il nostro caro No, non voglio sostituirla Perché costerebbe un macello Ma voglio portarlo a sistemare Il nostro caro amico Poi vediamo un po' Se ci sono altri macchinari Alta roba utile Dobbiamo sostituire Ah, forse dovremmo sostituire Anche la Resetionist Anche questa qua Impazzirà A fare tutto lei Porraccia Ora abbiamo già due Non so che abbiamo Affascinante e abile Allora, dai, datevi il cambio Su Scusiamo per tutti questi rifiuti Allora Ma non vedo tanti rifiuti Comunque pulita sto posto Stiamo facendo un buon lavoro O ci pigliamo un'altra farmacia Cosa che non sia per utile Eh, è una questione di emergenze Ragazzi, questione di emergenze Le CPI hanno la priorità Perché sono quelli che hanno l'emergenza Cosa vogliono qua? Costruirsi sala operatoria Eh, vorrei, vorrei Aspetta allora Costolette Andiamo a preparare Sta sala operatoria Sembra veramente di chiararla Soldi non mancano Eh, soldi non mancano Qui possiamo chiedere roba Attrezzature Infermiera richiesta in farmacia Sala operatoria Eccola qua Infermiera in reparto Ecco, possiamo fare qualcosa di utile Che bella sta sala operatoria È gigante Mannaggia Eh beh Ovviamente siamo IAR Vedici in prima In prima linea Eccoci qua Perfetto Ora abbiamo il visore a reagire Eh, è potente Salo Ah, potentissimo Vedete il lavello Che figo ragazzi Che figo Dove è il lavello Dove è il lavello Non mi fai Vuoi metter sto lavello da qualche parte Su Su Fammi lo mettere Cos'è c'è che non va Perché non mi fai mettere il signor lavello Ok Vuoi metterla da qualche parte Questa infermiera in reparto Ho mai visto un lavello così dispettoso Ok Partiamo dal paravento Ok Paravento qua Lavello Oh, finalmente Non so Chiedetemi come mai Salvati 4 su 4 Vabbè È andata un po' meglio Visto La nostra reputazione è andata Allora Qui c'è la cosa Del vedere Cosa dobbiamo fare Schermata di assunto Macchinario raggi X Eh beh Tanta roba Vedete Sono infelici Comunque infelicità Dice Il tuo conto in banca Ma questo è il max Sono noi Quindi Tu devi essere il banco Deve essere di 447.000 Insomma 20.000 Allora deve essere Ok Ce l'abbiamo fatto questo Poi l'altra cosa Poi l'obiettivo Di curare il 50% Se siamo a 36 Ce la stiamo facendo Il valore dell'ospedale Il valore dell'ospedale È una cosa importantissima Più cosa abbiamo Più vale l'ospedale Allora diamogli più valore Macchinario raggi X Dottore Prego recarti subito in cardio Infermiera richiesta in farmacia Radiologia Eccolo qua Bellissimo Mamma mia che grosso Scusiamo per tutti questi rifiuti Scusiamo per tutti questi rifiuti Non vi preoccupate È tutto Siamo in ospedale È normale I rifiuti Vediamoci qua Bellissimo macchinario Vedete La console Ebbè la console Meglio della Playstation La console E mi toccherà Comprar qualcuno Mi toccherà Comprar qualcuno Io non so Chi fa cosa Non so se questo qui va bene Ma Andiamo intanto a studiare Una cosa importante Vedete che più andiamo avanti Qui ci sono operazioni Cose varie Ecco qua Completo completo Possiamo aggiungere Medicinali Migliorie Specialistica ovviamente Migliorie Medicinali Ok direi che ci siamo Vedete che qua Abbiamo un buon po' Hai troppi dottori Ah ne eliminiamo qualcuno Mi spiace Abbiamo troppa gente Però mi fido Se mi dice che ne abbiamo troppi Ne abbiamo troppi Ma super Io ho comprato un dottore inutile Via Licenziamo qualche inutile Dottore Mi spiace di dire inutile Perché non è nessuno inutile In questo modo Ma qualcuno Farà davvero anche schifo Allora Questi qui C'è uno che non sa fare un tubo Questo qua Signor Fantucci Ti permette di dire Che lei fa schifo Cosa è questo? Cacciamo Via Cacciamo Fantucci? Sì Cacciamo Fantucci Ok Via Se ne va Ah Ah Dottore Prego ricarsi subito in cardio Mi ha cacciato via Santucci No Ma ci sono quelli della sala pompa Io compro attrezzature Dottore Eh sarà lunga Ancora per finire qua Non pensiamo che siamo ancora Pensiamo di farcela Ma non ce la facciamo ancora Dunque Uno qua Due qua Tre qua Guarda Mi faccio anche sedere Cosa vuoi che ti richiude la vita? Lucano? Per favore Adesso non usuriamo E vorranno anche Il radiatore Questi Vorranno pure sentire caldo Come osano sentire caldo In questo ospedale Questo ospedale È risparmio È la creme della creme Della sanità C'è anche questo qui Magari Vorrà prendersi Qualcosa È il radiatore Il radiatore Non solo nel tenerlo Io onestamente Perché terrei qua Dove ci sono I medici Vediamo qua Un bel radiatore Ok Poi andiamo avanti Ovviamente adesso Ok Attenzione Corpo sciolto 100% medicina Visto che bello La medicina è stata migliorata Ok Andiamo avanti Abbiamo Attrezzatura Ok Continuiamo Sarà interessante Perché ormai Penso che siamo vicinissimi A fare La nostra missione Schermata di assunto Dovremmo farcela Dovremmo farcela C'è un discorso tantissimo Corpo sciolto Ciao Vediamo qualche divanetto Per voi Gentile concessione Vediamo anche Altri divanetti Guardate che gentili Che siamo Veramente Dei santi Dei santi Dei santi Che fanno divanetti Per loro Mai visto delle persone Così Che creano Tutti questi divanetti Ok Sedetevi pure Tanto state morendo Ok Andiamo lì Mi serve L'infermiera L'ho comprato L'ho assumito L'infermiera Quindi No Perché poi si stancano Cucu Ci siamo Uno alla volta E video tutto Due chirurghi Due chirurghi In un'operatoria Oh mamma Due chirurghi Quindi ha mollato Questo Due chirurghi Che cavolo Che pensavo fosse più facile Come si è messi Con questa Ok A posto Questa qui A posto anche questa Andiamo dunque a vedere Anche la sala pompa Che dovremmo controllare Siamo quasi a fine anno Chissà se possiamo Operare un po' di gente Io vorrei mettere qualcosa in questa stanza Sì Ho paura di fare un pasticcio Eh non so come sistemare una stanza Non so Onestamente non so come fare Ho ancora imparato tutte le cose Registro cure Eh qui c'è anche tutto questo registro Reputazione 662 Avremo l'importante Testa gonfio Tutte le malattie Decessi Si studia un po' le cose Sindomi di Elvis Perché siamo abbastanza messi bene La verità I soldi non mancano Attenzione cos'è Il consigliere Spadella Un V Un V Un consigliere Speriamo che apprezzi il nostro ospedale La reputazione è fondamentale Ormai abbiamo curato gente Ormai abbiamo curato gente Sala pompa Sala pompa Non dovevo controllare qualcosa Sala pompa Vediamo che mi esplodio No se lo posso Sala pompa a posto Cardiologia Vabbè se lo posso anche questo Tutto a posto Tutto a posto Stiamo soltanto sistemando Qui ci vuole un chirurgo Guardi c'è gente che sta aspettando il chirurgo Mannaggia Mi sa che Ho fatto male a non assumere chirurghi Chirurghi è quello lì che taglia Cavolo mi costa tanto Ma ne vale la pena Buona motivazione Chirurghi Ok Abbiamo chirurghi Salvati 3 su 3 Ebbè Stiamo facendo Ormai saremmo arrivati Penso Ma mi sa che bisogna aspettare La fine dell'anno Rimite rara Ebbè Una rimite rara Si vede sedere Incredibile Incredibile Si vede sedere C'è pet In aria Ok La operano Ecco qua Studiamoci anche Le raggi di X Come funziona Insomma è divertente Vedere queste cose Anche se ci abbiamo tutti Che sono di male umore Poi bisogna rascurarsi bene Anche la felicità Hanno operata Visto Salvata Come contenta Io penso che ci siamo arrivati Ormai Penso che siamo arrivati Siamo ad agosto A sto punto Teniamo ancora vivo La live Tutta sta cosa Si Max ce la fa Ok Bene Tecnicamente può arrivare La promozione In qualsiasi momento Credo che arrivi Solo a fine anno Perciò aspettiamo Aspettiamo un po' Magari prendiamo Qualche altra pianta Tanto che ci siamo Inservienti Più lavoro per loro Allora cominciamo Una pianta Il posto No qui non è proprio Il posto ideale Per matrici una pianta I raggi X Facciamo mutare le piante Incredibile Attenzione Piante in cardiologia Ok Pianta nella toalette Ok C'è buonanza di posti Per sedersi Hai troppi dottori Non me ne frega nulla Sono troppi dottori Voglio salvare le vite Salvare le vite E penso che non possiamo Più creare nuove cose Ma abbiamo tutto Fatti Fatti Anche questo Anche questo E anche questo Perfetto Abbiamo tutto Cos'è? L'emergenza? Ehm No Non mi fido Non voglio rischiare Non voglio rischiare Di assemblare le puntazioni Sei sono troppi Poi ovviamente Uno può anche studiarsi I pazienti E capire Perché Cos'è che non va Perché non va bene Cos'hanno Che non va Vabbè La sala personale In effetti Avrei voluto aggiungere la roba Non ho capito mai Perché Dopo non riesco a sistemare Una sala personale Dove Ecco qua Questo Questo qua Ok Questo qui Oh Non voglio far sparire questo Voglio aggiungere roba Niente È difficile Sono quasi arrivato Con la pir Come fare una cosa Una Cerchio È già qualcosa Ma non voglio togliere questo No Oddio Un macello Lo sapevo io C'è un macello Lo sapevo già Sofà E volevo aggiungere roba E volevo aggiungere roba E volevo aggiungere roba Piante Ok E non posso aggiungere la trova No niente Vabbè comunque va bene così Attenzione Dovremmo essere al gran finale Rimanete sintonizzati Stiamo per farcela 26 settembre 26 settembre Altrove Qua altrove Così penserebbe di Vabbè Quello che è 30.000 E vediamo che apprezzeranno le sfide E questo lavoro le offrirà Piacerebbe gestire l'ospedale San Benedetto del Tronto No Del Trotto Del Trotto Va bene Siamo in Italia Allora San Benedetto del Trotto Va bene E si va Ovviamente la password Non importa Eccoci qua La prossima volta Si comincia San Benedetto del Trotto Va bene Ci vediamo poi al prossimo video Così scopriremo il livello di sfide Del prossimo Ciao a tutti Da Jack Llemax E buona prossima giornata A tutti E un grande abbraccio Ciao